Inter Keita ancora lontano, spunta Sissoko. Mustafi più di Mangala Il mercato dellInter in questa estate non è sicuramente quello che era stato promesso da Suning, i nomi altisonanti fatti nei primi giorni di giugno e che a luglio si sarebbero dovuti trasformare da sogni in realtà, poi sono rimasti soltanto sogni. I vari Vidal, Nainggolan, Di Maria e Sanchez non approderanno allInter in questa finestra di mercato. Ma quindi lInter ha intrapreso un'altra campagna acquisti fallimentare? Assolutamente no, anzi. In primis l'acquisto più importante è stato fatto in panchina, l'arrivo di Luciano Spalletti ha smosso gli equilibri e la mentalità di una squadra che nell'ultimo anno è sembrata slegata e senza una vera idea di gioco da imporre sul campo. L'allenatore toscano, un uomo con le idee chiare ha con un carattere molto forte, sembra già aver cambiato tanto. Lo dimostrano i sei punti conquistati prima contro la Fiorentina, poi contro un avversario forte con la Roma, per di più in casa dei giallorossi. Ora si può dire quel che si vuole riguardo la partita contro i Capitolini, l'unica cosa che poi alla fine conta è il 3-1 finale in favore dei Nerazzurri, che porta l'Inter a punteggio pieno insieme a Juventus, Napoli, Milan e Sampdoria. In seconda battuta sebbene non sia stati acquistati giocatori di livello internazionale, sono stati fatti innesti d'esperienza e di prospettiva e che già conoscevano bene il campionato italiano, oltre ad un fitto mercato di giovani da aggregare alla primavera. Ora è chiaro però che la dirigenza Nerazzurra deve fare qualche sacrificio per accontentare il più possibile l'ex allenatore della Roma. I nomi più caldi al momento sono 4, Mustafi e Mangala per la difesa, Sissoko, Karamoe e Keita per l'attacco, sebbene il primo sia un jolly importante, visto che può ricoprire praticamente ogni ruolo del centrocampo, oltre a quello di esterno d'attacco. . Moussa Sissoko con la maglia del Tottenham Football 365. Com. Controversa la questione riguardante il difensore centrale. Mangala. Adesso a Manchester è chiuso dalla forte concorrenza in difesa e la destinazione Inter gli è molto gradita. Negli ultimi giorni però è stato sorpassato da un altro giocatore al momento in Premier League, anche lui con un passato al Valencia, ovvero Shkodran Mostafi. . Spalletti lo preferisce vista la sua esperienza alla Sampdoria, squadra nella quale è effettivamente esploso. Inoltre il tedesco è un anno più giovane rispetto al francese. . Il problema è che per Mustafi serve un investimento importante ed immediato, visto che l'arsenale e in particolare venger, non sono disposti a lasciarlo partite in prestito, ma solo con una monetizzazione che permetterebbe poi ai guamners di andare sul mercato. . Infine, per concludere il discorso riguardante i movimenti di mercato dell'Inter, si registra un'operazione possibile in sinergia con il Genoa. . Dopo l'affare saltato per Emmanuel Cecchini, che sarebbe dovuto essere acquistato dall'Inter e girato in prestito al Grifone, ma è finito al Malaga, le due società adesso ci provano per il centrale difensivo Agustin Rogel, 19enne del Nacional, titolare nell'Uventi uruguaiana. . Le intenzioni sono quelli di acquistarlo, mandarlo due anni in prestito al Genoa e valutarne l'approccio con la Serie A per poi prendere una decisione finale su di lui. . Rogel con la maglia dell'Uruguay U-20 Pianeta Genoa 1893. Net. . .